Musica Telespettatori di Sella TV, buonasera e bentornati ad un nuovo appuntamento con l'informazione quella di oggi, martedì 13 febbraio 2024. Andiamo a vedere insieme i titoli con le principali notizie del giorno. 11 arresti per furti e ricettazione, colpi anche nella bergamasca. Incidenti sul lavoro, fenomeno senza fine, aumentano ancora quelli mortali. Storie ordinarie di giovani precari, c'è chi ha cambiato 10 lavori in 5 anni. Luis Muriel va negli States, il video messaggio, Atalanta e tifosi, sempre nel mio cuore. Il nomade digitale economista che gira il mondo in bicicletta, ecco come si fa. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Una banda di 11 persone è stata sgominata dai carabinieri di Brescia, Milano e Bergamo per furti e rapine anche a mano armata. 11 persone sono state fermate dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Brescia, coadiuvati dai colleghi di Milano e Bergamo. 10 sono finite in carcere, una ai domiciliari. L'accusa è di furti in abitazioni di autovetture, riciclaggio e ricettazione di autovetture e targhe, ricettazione e detenzione illegale di armi. È stata una rapina a mano armata compiuta l'11 gennaio 2023 a Diseo a far partire l'operazione. In quelle occasioni i rapinatori si erano impossessati di denaro contante e preziosi per un valore complessivo pari a circa 100.000 euro. L'azione era stata molto violenta, tanto che i proprietari di casa avevano riportato alcune ferite. Per la fuga ai malviventi avevano utilizzato due auto poi risultate rubate, alle quali erano state applicate targhe trafugate da altri autoveicoli. Le successive indagini hanno permesso poi di accertare l'esistenza di un sudalizio criminale, composto da 10 persone straniere, alcune delle quali irregolari sul territorio italiano, le quali utilizzando Rozzano in provincia di Milano come base sarebbe stato protagonista di furti in abitazione e di auto di grossa cilindrata, poi utilizzata per le attività criminali, con particolare riferimento alle province di Brescia, Bergamo, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Piacenza e Reggio Emilia. Il tema sicurezza è estremamente attuale anche in città con il clima da campagna elettorale che non fa che incrementare l'attenzione sul tema. Sicurezza, sicurezza, sicurezza. Il tema in città risuono ormai da anni e ciclicamente torna a riempire le prime pagine di cronaca, accendendo inevitabilmente anche dibattiti politici, a maggior ragione oggi che la campagna elettorale sta entrando nel vivo. I numeri delle forze dell'ordine sono incoraggianti tra arresti ed operazioni di pattugliamento del territorio, ma c'è una sicurezza, o meglio una non sicurezza percepita, che non piace ai bergamaschi. Purtroppo il perimetro dentro al quale succedono gli episodi di criminalità e microcriminalità è sempre lo stesso. La stazione come centro di gravità e poi tutto attorno, un brulicare di persone sospette e situazioni di degrado. In stazione è lo spaccio di droga a tenere banco, con l'amministrazione che ha chiuso un angolo cieco su via Bonomelli, come risposta urbanistica e il pattugliamento delle forze dell'ordine in costante aumento. Ma non basta, perché anche Piazzale Alpini è recentemente tornato a far parlare di sé con una rissa in orario pomeridiano, che si è poi espansa nelle arterie limitrofe. Chiudere la piazza è davvero una buona soluzione? Per la giunta Gori sì, per molti altri no. Fatto sta che si farà. Ben più vasto, ma anche grave, il problema autoline. Senza tetto che ormai si sono impossessati dell'area, malviventi che rendono la vita dei pendolari, spesso minori, davvero complicata. Turisti che vengono derubati, portandosi a casa una cartolina brutta della città. La domanda è che fare? La risposta va cercata in un discorso ampio e che coinvolga più attori sociali ed istituzionali. E poi le vie limitrofe, come il via Paglia, dove due episodi contro due locali hanno riaperto la ferita di una via tanto bella e prestigiosa quanto poco presidiata. Quindi i quartieri, malpensata con il Parco Olmi, sta combattendo il degrado con tante iniziative per le famiglie. Villaggio Sposi invece è in balia dei vandali che prendono di mira auto e locali. E poi i soliti noti, Boccaleone, Campagnola, Loreto, solo per citarne alcuni. Il viaggio nei quartieri dei candidati sarà solo uno spot o forse il punto di partenza giusto per intercettare i bisogni anche delle periferie? E per rispondere a questa domanda, questa sera alle 21 inizia un nuovo programma di Seila TV. Si chiama Seila Politica e noi ci affidiamo al direttore Luca Cavadini per capire meglio di che cosa si tratta. Questa sera avrà inizio un nuovo programma su Seila TV, Seila Politica, un programma di approfondimento che parla della politica, questa parola come abbiamo detto tante volte bistrattata, ma che ha bisogno di essere rivalutata. La politica del territorio con dei compagni di viaggio, la nostra redazione con Federico Bifignandi e i giornalisti delle migliori testate, delle maggiori testate giornalistiche bergamasche. Alle 21 ogni martedì, oggi questa sera parleremo di politica del territorio, di amministrative 2024 con un focus su Andrea Pezzotta. Non mancate. Non mancate e non cambiate canale al termine del nostro notiziario, che prosegue perché il tema degli incidenti sul lavoro è continuamente attuale e preoccupante. Gli incidenti fatali aumentano nella nostra provincia. Sharon Bordogni Nel resto d'Italia diminuiscono gli incidenti sul lavoro, ma non a Bergamo, dove i dati INAIL dipingono un quadro fatto di incidenti mortali, infortuni e malattie professionali. Nel 2023 su suolo aerobico le morti sul lavoro sono cresciute da 17 a 22, con un più 29,5% che consegna a Bergamo la maglia nera in fatto di rischi connessi al posto di lavoro. Anche le malattie professionali sono in aumento, 1.004 quelle segnalate, con un più 6% rispetto all'anno precedente. 13.450 le denunce di infortuni. Una situazione preoccupante, a cui si deve porre rimedio promuovendo una maggiore consapevolezza dei rischi connessi all'attività lavorativa. Sarà proprio questo il focus del patronato ACLI per il 2024, che ricorda come l'assicurazione INAIL dia diritto all'indemnità giornaliera per i giorni di assenza dal posto di lavoro, prestazioni sanitarie, prostetiche e riabilitative, nonché ad una serie di interventi per il reinserimento nella vita lavorativa e sociale. Obiettivo del nuovo anno, maggiore consapevolezza dei propri diritti, che si somma alla richiesta dei sindacati di misure di prevenzione più stringenti in regione Lombardia. E c'è un altro tema che è ostantemente attuale, il problema dei giovani che faticano a trovare un lavoro stabile. Noi abbiamo raccolto la testimonianza di una giovane che addirittura ha cambiato 10 lavori in 5 anni. Sharon Bordogne. Chiara in 5 anni ha cambiato almeno 10 mansioni, ma il contratto di lavoro precario è rimasto sempre lo stesso. L'incertezza si somma alla retribuzione troppo bassa, paga a minima 700 euro sporchi per 40 ore di lavoro, e a straordinari che in molti casi non vengono pagati. È la storia normale di una giovane precaria. Come lei, almeno il 50% dei bergamaschi tra i 20 e i 29 anni, come segnalato dai dati IMSS. Numeri neri su bianco che parlano di sogni e progetti accantonati dall'assenza di stabilità lavorativa, mentre la porta di aziende e attività si fa aggirevole e una voce fuori campo grida, avanti un altro. Non avere una garanzia per il proprio futuro non è bello. Chiedere un finanziamento con un contratto a tempo determinato è impossibile. Andare in affitto è impossibile. Chiedere un mutuo è tanto peggio. Ancora ad oggi mi trovo costretta a vivere con la mia famiglia, cosa che magari piacerebbe anche a me essere indipendente. Quindi anche poter decidere di progettare, di avere una propria indipendenza o comunque l'acquisto di qualcosa diventa sempre più complicato. La linea tra lavoro e sfruttamento per Chiara e per i tanti giovani precari o robici è sfumata. Da qui l'appello del sindacato agli imprenditori. Credo che dal punto di vista delle aziende bisognerebbe valorizzare dei più giovani, stabilizzarli, inserirli in un percorso anche di apprendistato, cioè assunti con possibilità anche di far formazione interna. Ci sono gli strumenti ma va data una garanzia, va data un'opportunità concreta e questo serve soprattutto alle aziende oltre che ai giovani. Devono pensare che noi siamo il futuro un po' dell'Italia e se non ci pensano loro a darci la mano, chi ci deve pensare? Veniamo in città adesso. Le piscine Italcementi, uno dei punti di riferimento per lo sport cittadino, puntano a riqualificarsi. Sul piatto 20 milioni di euro. La sistemazione dell'impianto delle piscine Italcementi in cambio della gestione della struttura per 20 anni. Questa in estrema sintesi la proposta ricevuta dal comune di Bergamo da un pool di aziende che mettono nel piatto una ventina di milioni di euro. Riqualificazione e ammodernamento per le piscine e le strutture annesse, regalate dalla famiglia Pesenti degli anni 60 ed ora bisognose di un urgente intervento. Se tutto andrà bene, l'inizio del cantiere potrà avvenire entro la fine del 2024. Un anno e mezzo di lavori per avere un impianto a regola d'arte, efficiente e con le carte in regola per ospitare sia eventi internazionali d'alto livello, sia per offrire ai cittadini che amano le discipline natatorie un servizio di primo ordine. L'amministrazione ed il consorzio di aziende che hanno proposto il progetto stanno lavorando sull'ipotesi di chiusura e apertura graduale dell'impianto per garantire agli sportivi la possibilità di avere attiva almeno una parte della struttura. L'assessorato si è impegnato a studiare soluzioni alternative temporanee e agevolazioni economiche, soprattutto alle realtà associazionistiche che dovranno sostenere maggiori spese per gli allenamenti programmati in altre piscine del territorio. Andiamo in fiera a Bergamo dove si tiene in questi giorni la fiera appunto dei territori che promuove il turismo slow, sostenibile e out-door. Malika Zambelli È giunta alla nona edizione la fiera dei territori dedicata al turismo lento e sostenibile, un turismo etico che si prefigge come obiettivo quello di limitare l'impatto sull'ambiente. Da venerdì 16 a domenica 18 febbraio sarà quindi possibile accedere gratuitamente alla fiera di Bergamo per scoprire le destinazioni italiane ed europee più interessanti. Un calendario ricco di eventi, quello del 2024, più di 150 tra show cooking, incontri, convegni, presentazioni e intrattenimento. Otto i temi cardine della manifestazione, enogastronomia, cicloturismo, montagna, cammini, accessibilità, vie d'acqua e folklore. Lo scopo valorizzare il territorio. Non mancheranno inoltre proposte di percorsi spirituali. La presenza della fede e della pietà popolare riteniamo che sia davvero un valore aggiunto alla riscoperta dei territori, nella loro natura, nella loro tradizione, nella loro storia. Novità di quest'anno il padiglione B dedicato alle attività sportive. Un nuovo padiglione dedicato all'esperienza outdoor dove tutti potranno vivere gli sport o le attività legate alla montagna da vivere in ogni stagione con piste di fondo, di sci, una parete arrampicata, un'esperienza per poter vivere a contatto con la natura. Noi ci aspettiamo una grandissima affluenza di pubblico, innanzitutto, che possa conoscere ed apprezzare quelli che sono i nostri territori per un turismo lento e sostenibile. Domani è il mercoledì delle ceneri che segna l'inizio della Quaresima. Allora noi abbiamo chiesto a Monsignor Giulio Della Vite, un amico di Seila TV, un messaggio per vivere al meglio questi 40 giorni di avvicinamento alla Pasqua. Io credo che la Quaresima sia un tempo favorevole e opportuno per tutti, perché gli antichi ci hanno consegnato la Quaresima che ha come porta di apertura il Carnevale. La parola Carnevale significa carne, levare, levare la carne. La carne era il cibo della festa, il cibo straordinario, il cibo di tutti i giorni, il cibo povero. Una volta era il pesce, il contrario di oggi. E togliere la carne significava per un po' di tempo togliamo lo straordinario, non per essere tristi, ma per andare all'essenziale, per capire qual è l'ordinarietà, l'ordinario. E allora mettere attenzione al piatto non è questione di dieta, ma di rendersi conto di chi divide ogni giorno con noi il tavolo. La domanda non è cosa ho nel piatto, ma chi c'è intorno al tavolo. È la riscoperta dell'essenziale. E per questo la Quaresima inizia con le ceneri. La cenere non è questione di bruciare qualcosa, o di distruggere, o di essere in giro con la faccia triste. Ma la cenere una volta diceva vai all'essenzialità, togli tutto perché poi ti rendi conto che quello che sembra da nulla, come la cenere, ha un valore immenso. Perché la cenere era un grande fertilizzante, veniva messo nei campi per dare minerali alla realtà. E allora ti rendi conto che il normale, quello sempre più ovvio, grigio, in realtà può darti dei minerali, può caricarti. La cenere era usata come antibatterico, per difendersi dagli infetti, ma anche per disinfettare le cose di tutti i giorni. E allora ti rendi conto che per guardare e gustare l'essenziale hai bisogno di pulire qualcosa, di difenderti da alcuni batteri che sono situazioni e persone. La cenere veniva usata poi per lavare i panni, per renderli più bianchi. E allora tante volte noi siamo opachi. Allora guardare all'essenziale ti fa tornare a guardare la limpidezza delle cose. La cenere poi veniva usata anche per lavare stoviglie, argento e i vetri per guardare fuori dalla realtà. Cioè l'ordinario ti fa risplendere al meglio che sei. Vai a vedere la materia di cui sei fatto. Piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo con una seconda parte di Sport e Curiosità. Seconda parte del nostro notiziario che apriamo con Luis Muriel che ha lasciato l'Atalanta per approdare l'Orlando City nel campionato statunitense. Tramite social ha voluto lasciare un messaggio davvero commosso all'Atalanta e ai suoi tifosi. C'è un nodo qua che veramente non mi lascia parlare bene. Vi ringrazio tantissimo, vi ringrazio per avermi supportato, per l'affetto, per quello che mi avete trasmesso sempre, ogni volta, non solo allo stadio ma anche fuori. Siete la tifoseria più bella mai conosciuta e vi porterò sempre nel mio cuore. Ringrazio tantissimo la società, il presidente Antonio, Luca, il mister Gasperini, i miei compagni che in questi quattri anni messo. Abbiamo vissuto delle bellissime cose, sia in Europa che qua in Italia. Io veramente faccio fatica poi a parlare perché è un'emozione bella, ma allo stesso tempo sicuramente che mi lascia triste. Comunque, prima di partire volevo fare questo saluto, ringraziare tutti, anche tutti quelli che lavorano a Singonia, che magari sono dietro le quinte, che non si vedono, che sono troppo importanti per noi e che in questi quattro anni e mezzo sicuramente mi hanno dato tantissimo. Parlo di magazzineri, del personale in cucina, della parte amministrativa, di tutte quelle persone che ogni giorno lavorano per far sì che noi siamo sempre meglio. Grazie ragazzi, ci vediamo presto, vi porterò il mio cuore, vado a fare un'esperienza nuova, ma sicuramente con voi dietro, che vi porterò sempre, ti ferò sempre a Atalanta e sicuramente, come l'ho detto prima, ci vediamo il più presto. Insieme alla società vogliamo fare questo saluto perché riteniamo che è la maniera più bella di, tra virgolette, lasciarci. Comunque so che Bergamo è casa mia e tornerò sempre volentieri a trovarvi, a trovare l'Atalanta e a trovare tutta la gente di Bergamo. Grazie, grazie di tutto ragazzi, grazie sempre, grazie per l'affetto e forza Atalanta! Sofia Goggia adesso, che ha subito il gravissimo infortunio il quale ha messo fine alla sua stagione, oggi sui suoi social ha dato un aggiornamento sul suo recupero. Meglio dai! Beh insomma, meglio per dei supereroi quali sono i professionisti dello sport. non è un professionista dello sport ma un professionista di lavoro fa l'economista e bergamasco e gira però il mondo in bicicletta lavorando in smart working. Silvia Valenti. Si definisce nomade digitale, vive e lavora in ogni parte del mondo saltando da un fuso orario all'altro. Giuseppe Bonetti, 35 anni, bergamasco, consulente per un'azienda di farmaco-economia statunitense, ha coronato così il suo sogno di poter esplorare i continenti sempre in sella alla sua bicicletta. Negli ultimi tre anni sono stato in Thailandia anche in un bellissimo villaggio nel circolo pro-areartico alle isole Lofoten, New York e proprio di recente sono appena tornato da un mese e mezzo in Marocco. Esistono, diciamo, diverse destinazioni anche molto diverse tra loro dall'Islanda, la Costa Rica, dalla Norvegia a Cuba ma è proprio forse quest'ultimo il viaggio che più mi è rimasto nel cuore tant'è che è l'unica destinazione in cui sono poi tornato per un ulteriore viaggio. Non sempre fila tutto liscio e proprio a Cuba ma anche in Scozia la bicicletta rimase bloccata ad uno scalo aeroportuale. La sensazione di trovarsi in un paese solo, senza bagaglie e bici non è delle migliori però poi quando ti suonano al citofono consegnandoci i propri pacchi si dimentica tutto il malumore e si è pronti per partire. Bergamo però è sempre nel cuore qui è iniziata la sua passione per le due ruote e da dieci anni fa parte della Popolare Ciclistica la più grande squadra di ciclismo senza sponsor che ad oggi conta 90 membri. Sono grato di essere nato e cresciuto qui. C'è un'ampia scelta diciamo a due passi da casa questo è qualcosa che sicuramente mi manca quando sto a Londra la Popolare Ciclistica è davvero una squadra in cui chiunque si sente a proprio agio a prescindere dai propri livelli di forma quindi abbiamo persone che magari escono anche in bicicletta raramente e persone in cui invece fanno vita quasi da professionisti. Qualche giorno a Bergamo con la famiglia poi a Londra per alcuni mesi ma già ha in mente la prossima destinazione sarà ancora il Marocco. Beato lui noi adesso andiamo a vedere che tempo farà Bergamo e Provincia nelle prossime ore. Ben ritrovati da Emma Parigi di Trebimete ad un nuovo appuntamento previsionale anche nella giornata di mercoledì sarà un San Valentino con l'anticiclone sul Mediterraneo e sulla nostra penisola dunque ulteriore netto miglioramento su tutto il territorio condizioni di stabilità e restesi rasserenamenti. Anche sulla Lombardia sarà una bella giornata con tempo assolato fatta eccezione per le nebbie insisteranno sui bassi strati notte e tempo e all'alba specialmente sulle pianure più orientali ma poi saranno in progressivo dissolvimento diurno. Un focus sulla provincia di Bergamo tanto sole sul territorio si starà bene nelle ore pomeridiane con temperature massime attorno ai 14-15 gradi in città clima non particolarmente freddo notte tempo e all'alba anche la giornata di giovedì sarà discreta con sole prevalente solo un po' più di nubi di passaggio ma in assenza di effetti ora uno sguardo alla tendenza per il fine settimana la pressione atmosferica resterà alta garanzia di stabilità ed ampi spazi assolati solo un po' più di nubi di passaggio ma in assenza di fenomeni tra venerdì e sabato le temperature di orne pressoché stazionarie o in contenuto lieve rialzo specie nel weekend su valori piacevoli attorno ai 14-15 gradi tutto sommato non farà freddo neanche nella notte e all'alba per saperne di più vi rimando alla nostra nuova app Etrebi Meteo è tutto per le notizie ma non cambiate canale perché alle 21 arriva la prima puntata di Seila Politica dibattito e approfondimento sulla politica l'attualità la cronaca cittadina ma non solo grazie con l'informazione torniamo domani alle 19-15 grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.